Gli hanno riconosciuto una sorta di dolo d'impeto che in parte hanno ritenuto meno grave, meno importante rispetto ad una sorta di preordinazione. Non si trattò di un omicidio premeditato, consumato quindi con lucidità e freddezza, bensì a muovere Peter Polverini, il giovane di San Giustino Umbro che uccise Caitia Dello Marino, fu un impeto d'ira. La Corte d'Assise d'Appello di Firenze ha per questo motivo considerato eccessiva la pena inflitta in primo grado 16 anni di reclusione, riducendola a 14. L'omicidio si consumò nella notte tra l'11 e il 12 luglio 2016. Peter colpì la donna con un martello sino a fracassare la testa, poi la presa a pugni e tentò di strangolarla. Infine gettò il corpo della donna nel torrente Afra Sansepolcro e scappò via. Adesso sono state depositate le motivazioni che spiegano la sentenza dei giudici fiorentini. La pena è stata infatti ricalcolata partendo dal minimo edittale previsto per l'omicidio volontario, 21 anni e non dal massimo 24, come invece aveva fatto il giudice Pier Giorgio Ponticelli in primo grado. Il processo inoltre è stato celebrato con il rito abbreviato che prevede lo sconto di un terzo della pena. Anche la Corte d'Appello ha poi riconosciuto l'aggravante della minorata a difesa della donna. L'omicidio si consumò infatti in un luogo isolato e nel cuore della notte. I giudici fiorentini hanno però bilanciato questa aggravante con il vizio parziale di mente diagnosticato a Peter, ossia il disturbo di personalità multipla che avrebbe diminuito la capacità di intendere volere nel momento del delitto. Sono state poi riconosciute anche le attuenanti generiche che invece non erano state concesse in primo grado. La Corte d'Appello ha infatti valutato anche l'incensuratezza e la collaborazione del giovane per la chiusura delle indagini. Io personalmente non condivido molto, anche se a onor del vero la Corte d'Appello ne dà atto di questo fatto all'interno della sentenza. La collaborazione non è stata nella fase delle indagini, non ha agevolato poi lo svolgimento delle indagini, ma c'è stata soltanto al momento dell'applicazione della misura cautelare in carcere, cioè quando sono andati a prendere, quando i carabinieri sono andati a prenderlo a casa e li ha confessato. Gli avvocati Mario Cherubini e Piero Melani Graverini, difensori di Peter Polverini, che sta scontando la pena nel carcere di Orvieto, stanno valutando il ricorso in cassazione per ridurre ancora la condanna. È stato infine confermato il risarcimento per i familiari della vittima, a 132.000 euro al fratello di Katia Dello Marino e 311.000 alla mamma. Ancora ad oggi la famiglia di Katia Dello Marino, la madre del fratello, aspetta un gesto da Peter Polverini che non è mai arrivato. Sì, lo aspetta, lo ha o spicherebbe più che aspetta, non si aspetta nulla da Peter Polverini. Purtroppo no, non c'è mai stato un gesto di rammarico, di scuse, di pentimento, non ha mostrato mai nulla nei confronti della famiglia.